La Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, è stata protagonista della Lecture Spinelli 2015, iniziativa annuale del Centro Studi sul Federalismo, con un intervento sul tema Completare l'integrazione europea, l'unica via possibile. La Lecture si è svolta nell'Aulamagna Cavallerizza Reale dell'Università di Torino. In rappresentanza dell'Assemblea regionale era presente il Vice Presidente Nino Boedi.